Non tutte le fotocamere nascono uguali e definire l'Alfa 1 è piuttosto complicato, soprattutto considerando l'attuale line-up di Sony, dove abbiamo l'ammiraglia per l'alta velocità, l'Alfa 9.2, abbiamo l'ammiraglia per l'alta risoluzione, quindi l'Alfa 7 R4 e poi l'Alfa 7 S3 ammiraglia per il video e poi abbiamo l'Alfa 1, che io considero a questo punto l'ammiraglia tra le ammiraglie. Ieri ho avuto l'opportunità di testare per qualche ora la Sony Alpha 1, che in realtà vedete è ancora tra le mie mani, ma per pochissimo tempo, perché appena finirò di registrare questo video dovrò mettermi in macchina per andare a Montepaonelido e restituirla dal legittimo proprietario, ovvero Cinesud. Negozio che tra l'altro ci pensavo l'altro giorno è più anziano di me perché è del 1976, solo che nel suo caso è una cosa positiva, l'anzianità nel mio decisamente un po' meno. Comunque negozio che ovviamente ha anche lo shop online Cinesud.it e che è un negozio storico, come avrete capito, che lavora con tutti i principali partner del mondo fotografico. Al tempo stesso la cosa che mi piace in particolare è che non è soltanto un negozio, ma è in un certo senso anche un luogo dove la fotografia è cultura, quindi si fanno tanti eventi anche online di questi tempi, quindi vi consiglio di seguirli sulla pagina Facebook dove vengono annunciati di volta in volta quelli che verranno realizzati nelle varie settimane, vi ripeto sono veramente tanti e molto interessanti. E poi forse il massimo risultato che ho potuto vedere in quest'ultimo periodo è stata la nascita di Cinesudfotomagazine.it, un sito, un contenitore insomma di contributi molto importanti sul mondo della fotografia che veramente spaziano a 360 gradi e di cui sono fiero di essere testimonial, tra l'altro con il mio nome vicino a quelli di persone molto più importanti di me, insomma, quindi mi fa davvero piacere. E insomma questa Alfa 1, vi dicevo, l'ho potuta provare per pochissimo tempo, ho realizzato uno solo shooting, tra l'altro il tempo appunto è stato tiranno in due modi, sia quello proprio delle lancette che scorrevano molto rapidamente, ma anche quello meteorologico perché avevamo organizzato con il mio collega Salvatore Cosentino uno shooting all'esterno, ma si è messo a piovere, quindi abbiamo voluto ripiegare in studio. Comunque a parte questo, perché tanto alla fine era giusto per provare la fotocamera, ovviamente in questo poco tempo su un prodotto così complicato, così ricco di funzionalità e di nuove caratteristiche tecniche, veramente si può dire poco, insomma, per cui sono qui giusto per fare un hands-on, anche perché non so se poi avrò la possibilità a breve di averne una in prova, però per un periodo sufficiente, diciamo 15 giorni, un mese, perché effettivamente ci sono tante cose da dover analizzare. Per cui vi parlo giusto di queste mie prime impressioni, prime impressioni che dal punto di vista dell'utilizzo sono state veramente, direi quasi trasparenti, perché arrivo ormai da un lungo periodo di scatti con Sony, cioè sto lavorando da tanti tempo con Sony, sono ormai un Sony Pro, tra virgolette, insomma, con la Tesla e tutto quanto, ho un'Alfa 7R Mark III, un'Alfa 7S Mark III, adesso ho anche un'Alfa 7C, avevo un'Alfa 7 III, insomma, tante fotocamere e devo dire che la cosa positiva sicuramente è stata che utilizzando questa fotocamera si rimane veramente all'interno della famiglia, quindi la struttura del corpo, i controlli, i menu sono quelli nuovi dell'Alfa 7S III, quindi migliorati, e si nota sicuramente tra le novità il fatto che è molto, molto reattiva, molto veloce e tutto quanto. Ma la cosa più interessante, secondo me, è che se andiamo a guardare il lato specifico e tecniche, questa è difficile, insomma, ad andare a capire come fotocamera, perché risolve, se vogliamo, il problema dell'alta risoluzione con un sensore da 50 megapixel, retroilluminato, tra l'altro un sensore stacked, quindi con la DRAM per andare ad aumentare la velocità di lettura, e proprio qui vediamo che nel andare ad offrire la massima risoluzione, come fa per la sua massima espressione l'Alfa 7 R IV, in questo caso si va a risolvere anche il problema della velocità, che di solito non è associato all'alta risoluzione, no, di solito è un problema la velocità con l'alta risoluzione, mentre qui abbiamo la possibilità di scattare fino a 30 fotogrammi al secondo con l'otturatore elettronico, lavorando in RAW più JPEG con il RAW compresso, e poi però si può al tempo stesso con l'otturatore meccanico arrivare a 10 fotogrammi al secondo, che comunque sono tanti, anche perché vengono mantenuti per 23 secondi, quindi insomma si fanno parecchi scatti, e la cosa che mi è piaciuta di più è che comunque la fotocamera con una SDV90, ed è con questa che ho registrato i numeri di cui vi sto parlando, dà la possibilità di ottenere comunque un'operatività anche nel momento in cui si interrompe la raffica, cioè subito voi finite una raffica, anche senza magari arrivare a saturare il buffer, e subito potete nuovamente scattare, quindi una cosa che veramente vi dà una tranquillità operativa assoluta. E poi sempre qui all'interno dell'Alfa 1 ci sono delle novità importanti proprio per risolvere alcuni dei problemi dovuti a sensori così risoluti, in generale al rolling shutter, perché ci sono le distorsioni, come sapete, per la progressione di lettura del sensore con l'otturatore elettronico. Qui sono state ridotte ancora di più rispetto all'Alfa 9 Mark II del 150%, quindi si arriva a quella che Sony chiama distorsione zero, insomma, in realtà una piccolissima parte c'è ancora, ma veramente è un miglioramento importante da questo punto di vista. E poi, sempre rispetto all'otturatore elettronico, qui abbiamo l'opportunità di utilizzarlo con il sync flash fino a un duecentesimo. Un altro muro, diciamo, che Sony va ad abbattere con l'Alfa 1, e quindi abbiamo la risoluzione, abbiamo l'alta velocità e poi un'alta velocità che viene coadiuvata da un motore AF molto performante, con oltre 700 punti, una copertura del 92% del fotogramma e soprattutto con la capacità di leggere, diciamo, le immagini e correggere l'AF per 120 volt al secondo. Quindi si va veramente ad una velocità incredibile per seguire tutte le informazioni che vengono catturate da questo sensore per ottenere delle immagini in cui la messa a fuoco, anche con una ridottissima profondità di campo, è sempre perfetta, sempre indovinata. Ora, andiamo a capire però cosa succede nell'Alfa 1, perché c'è un altro tassello che viene riempito, cioè quello del video, quello che finora, insomma, era appannaggio di un'altra ammiraglia, cioè l'Alfa 7S Mark III, perché qui si arriva addirittura all'8K, 8K a 30 fotogrammi al secondo in 4.2.0, ma anche ovviamente al 4K, 4.2.2 a 10 bit con la possibilità di registrare fino a 100 fotogrammi al secondo, con l'uscita HDMI full size in RAW, con 15 stop di gamma dinamica registrando in S-Log3, insomma tutte queste cose che vi sto dicendo purtroppo non le ho potute provare per mancanza di tempo, ma sono caratteristiche che insomma vengono riprese dalla serie Alfa 7S III e portate ancora su un altro livello più elevato. Abbiamo anche l'S Cineton come profilo, quindi quello derivato dalla famiglia Cinema Line di Sony, quindi le varie FX, e quindi veramente riusciamo a completare in maniera egregia anche il settore video, tra l'altro con l'Hot Shoe qui che adesso è di tipo digitale, quindi possiamo mettere i vari accessori per l'audio digitale nativo di Sony, tra cui l'ultimo, quello che ci dà la possibilità di gestire l'audio in remoto con un trigger wireless, insomma non trigger, con ricevitore e trasmettitore wireless, e insomma veramente tantissima roba, cioè trovare dei punti in cui questa fotocamera non sia al top assoluto, trovare degli elementi negativi è davvero complicatissimo, anche la batteria comunque ha un'ottima durata, dichiarata per 530 scatti con lo standard CIPA che come sapete è piuttosto restrittivo, infatti ieri ho fatto, non so, circa 500 scatti in tre ore più o meno di shooting, comunque avevo oltre il 25% ancora di batteria e comunque avevo fatto anche degli scatti a prima un po' per sistemare le luci, eccetera, eccetera, sempre tenuta accesa con lo schermo attivo, il mirino, insomma si riesce tranquillamente a lavorare da questo punto di vista. Lo schermo e il mirino sono ottimi, nel senso lo schermo in realtà è un po' di meno, è il classico 3 pollici da 1,44 milioni di punti, se ricordo bene, e il mirino è quello da 9 milioni di punti, insomma con il grandimento dello 0,9 per, attualmente credo sia il migliore in assoluto della categoria, molto molto valido, insomma non c'è veramente nulla che si possa dire. Ora, tutte queste caratteristiche che come vi dicevo rendono l'Alfa 1 l'ammiraglia delle ammiraglie, insomma anche in casa Sony, ovviamente trovano anche riscontro nel prezzo che di listino e 7.299 euro, che ci sta se vogliamo rispetto alle altre super top ammiraglie che vediamo degli altri brand, ma d'altro canto io qui ho trovato una piccola cosa in meno, una cosa che però, lo voglio subito dire, è una mia personale interpretazione del tutto soggettiva rispetto a una, diciamo caratteristica se vogliamo, che secondo me Sony avrebbe potuto implementare meglio nella Sony Alpha 1, ed è il corpo. Corpo che è robusto, è tropicalizzato, è più comodo insomma di quelli delle serie precedenti, ma è praticamente identico a quello della Sony Alpha 9 II, insomma anche con la toretta qui a sinistra per impostare il metodo drive, per impostare il metodo F, insomma è comoda per carità, non voglio dire di no, ma al tempo stesso secondo me una macchina di questo tipo probabilmente meritava di avere un progetto ex novo, un progetto non diciamo da zero, ma ancora più a fuoco diciamo sul tipo di utenza che potrebbe avvicinarsi ad una fotocamera di questo tipo, che è un'utenza molto molto professionale, chiaramente che vuole assolutamente il top di ogni cosa. Ed è chiaro, c'è sempre la possibilità di comprare, ovviamente non è gratis, di comprare il battery grip, che va ad aggiungere, come faccio io sull'Alpha 7 R3, l'impugnatura verticale, a migliorare ancora l'autonomia, a darci un'ergonomia più comoda dal punto di vista dell'utilizzo prolungato con lenti pesanti e grandi, perché comunque ricordate sempre che è bello, il corpo piccolo è molto bello, ma nel momento in cui poi dovete utilizzarlo per tanto tempo con lenti pesanti, alla fine è sbilanciato e avete più fatica con un corpo piccolo che con uno più voluminoso, anche se dovesse essere più pesante, ma che vi dà un miglior bilanciamento rispetto alla lente. In generale queste sono tutte caratteristiche, che è quelle che ho appena descritto, che secondo me sono quasi sempre necessarie per un utente che può essere interessato a questa fotocamera. Non credo che sia un caso, ma magari sbaglio io, che di solito le ammiraglie che vediamo, quelle che tradizionalmente pensiamo quando ci riferiamo al termine ammiraglie in ambito fotografico, sono fotocamere full body, quindi che hanno anche la parte inferiore. Questa è una cosa importante da ricordare quando il battery grip è integrato, in realtà la fotocamera è più piccola rispetto alle fotocamere più battery grip, perché c'è meno chassis, non ci sono le parti accoppiate, si può ottimizzare meglio lo spazio, si possono ottimizzare meglio le connessioni, si possono ottimizzare meglio i controlli e è sicuramente un grande vantaggio dal punto di vista della comparazione rispetto all'utilizzo di una fotocamera più il battery grip, che tra l'altro è sempre meno rigida, è un po' più difficoltosa dal punto di vista della gestione e della tropicalizzazione. Insomma, perché farla così? Non lo so. Io onestamente credo che loro abbiano fatto le loro ricerche di mercato, credo che abbiano intervistato i loro ambassadori, che la strada che vogliono seguire è questa e che la maggior parte degli utenti Sony forse sono soddisfatti. Io credo che questa è l'unica critica che riesco a muovere, diciamo, a questo corpo. Se avessero fatto un corpo con un progetto nuovo e con magari la possibilità di essere direttamente con lo scatto verticale integrato, forse Sony avrebbe ottenuto veramente la perfetta quadratura del cerchio. Fatemi sapere assolutamente cosa ne pensate, la vostra opinione è molto importante, quindi ne parliamo nei commenti e al solito vi ricordo che i like, i commenti, condivisioni, iscrizioni al canale sono tutte cose molto molto gradite. Ringrazio ancora Cinesud per la possibilità di testare la macchina, spero di averla per più tempo per potervi dare più informazioni, per farvi vedere più risultati, per analizzare bene anche questo 8K. Nel frattempo con questo è tutto. Alla prossima, ciao!